Uomo del parcheggio, misterioso e labile All'aggiornamento della casa di Suri, questo me lo accollo Benvenuti in questo nuovissimo Cioè è il set di... è un set base di una sitcom di serie B Scherzo eh Io ho questo primo video della casa del 2023 che sarà un update Perché non è il tour finale, visto che la casa non è ancora completamente pronta Ci sono tantissimi Ma cazzo è 1440p e a fuoco lo sfondo a lui Non è quasi ancora da fare, però era giusto farvi un piccolo update Questo video tra l'altro è realizzato in collaborazione con NorvoPN, uno dei miei sponsor Ora prendo il telefono e facciamo un bel giro Però mi piaceva questa inquadratura, ho attaccato il telefono alla porta E voi direte, come? Con una ventosa Comunque sì, penso che questa sarà un'inquadratura fissa perché è davvero bella Cioè mi piace Sì ci sta, più che altro è tutta la casa, quindi top Cosa è cambiato? Cosa è cambiato? Appena entriamo, vabbè, mini tour velocissimo Cucina, zona entertainment e lì ci sono... Zona entertainment, sì, uno scherbo Delle cose per terra perché è ancora un po' incasinato ma ve l'ho detto Entertainment barra salotto e di qui abbiamo il primo ormai Scusa Suriala, io ti voglio veramente un bene dell'anima Ma con questi soldi non potevi prenderci un casale in Toscana nuovo di pacca con ulivi? Cioè, stavi benissimo, facevi le videochiamate e ti facevi arrivà Cento fili di fibra direttamente nel culo per fare le chiamate di lavoro Stop, fine, zero Ma anche se, ora io sono sempre fissato alla Toscana Ma anche in Sardegna Cazzo ne so, micchia, ma anche nelle Marche andava bene Però, cioè, Chris, che spreco, vabbè, Riccardo a Milano Non si può di niente, ragazzo, gusti Amadio, che è zona lavanderia barra sgabuzzino Con lo specchietto, ora vi racconto bene tutto È giusto per chi non si ricorda Anche in Romagna, bellissimo, certo Come è fatta la casa Di qui abbiamo la sala con quello che sarà il letto con il materasso Un grande armadio che occupa tutta la parete Che è il main storage Main storage Main storage Come in Minecraft Angolo studio Con scrivania e altre cose Strumenti musicali inutilizzati Questo è il bagno Allora, potenzialmente nel bagno vorrò fare dei lavori Potenzialmente la cucina, per quanto mi piaccia Fine della casa Vorrò poter cambiare qualcosa Però per il momento direi che siamo a uno stato davvero Cioè, mi piace Qui era tutto vuoto Abbiamo realizzato un armadio Una scarpiera, sembra Beh, lui è fissato Su misura Come vedete ci sono alcune parti Ah ragazzi, mi ero scusato di dirvelo Giorgio Power sta facendo l'ultima live prima della Fashion Week Molto importante perché poi inizia la Fashion Week E come sapete siamo tutti impegnati Quindi, insomma, cercate di aggiornare un attimo il calendario La vostra agenda perché tra poco ci siamo ragazzi Di questo armadio è un'altra parte di questo armadio che sono più corte Quella centrale è più larga Ed è fatto in modo da contenere la lavatrice barra asciugatrice sotto In teoria è fatto per averne due Un po' ha donato 199 pippoli Dario una domandina visto che ho dei film della Marvel Ti fa schifo anche l'ulk di Anglie? No Non ho mai sentito un tuo parere a riguardo Mi piace, stranissimo Fall Ci sta, secondo me ci sta È kitsch però Gli do un cazzo Potrei mettere la lavatrice sotto e l'asciugatrice sopra Ma ho optato per un modello che sia lavatrice che asciugatrice Quindi ho più spazio che, insomma, non mi fa schifo Di qui, vabbè, zona angolo scopi e scopette e robe varie Quanti Dyson ha? Ma poi quanti? Mille Dyson, due Ma ancora devo organizzare bene questi armadi Qua ci sono queste che sono decisamente troppo lunghe Quindi dovrò sbagliare C'è spazio nemmeno per le scope Tavolino, svuotatasche, basetto Insomma, ho riempito quest'angolino qui In questa maniera posso avere ancora più spazio Perché, insomma, sono dei bei cassetti capienti Non so cosa ci metterò dentro Però sono 50 metri quadri di casa Quindi un po' di spazio serve Come serve un bello specchio Perché lo specchio dà un botto di profondità Aumenta tantissimo la luminosità della casa Già Mi sa che ce ne vuole più di uno qui, eh, sicuri allora Questa casa è molto luminosa di per sé Perché, insomma, abbiamo anche Le finestre sul tetto Però degli specchi aiutano sempre E questo in particolare direi che è un bello scorcio Come vedete anche l'armaio di là C'è un bello specchietto Di qui vedete il tavolo vecchio Sembra un po' una composizione tipo Non lo so, mi piace quel cerchio così messo a caso Quindi non è cambiato Non c'era semplicemente posto per il tavolo E ci siamo inventati questa roba Qua c'è l'angolo internet Importantissimo Con 8000 scatoline prese Sperando che non prendano mai fuoco Qui c'è il modem Oltre al modem Mi capita spessissimo di usare in casa Anche NordVPN Che come vi dicevo Mi supporto Questo bel materiale Che riflette le mille luci Che ci sono per la stanza C'è un problema Vi ricordate come questo Era rotto Ah è la composizione Ed è anche per questo che l'ho cambiato Non solo perché Vabbè era temporaneo C'è Aspetta Dov'è? C'è chiamato anche questo Dov'è? Non lo vedo Eccolo qua Scheggiato C'è Ma non si vede nemmeno Dai insomma che cazzo te ne frega Ci metti in copri tavoli Se ci passi il dito sopra Non senti nulla Però è palesemente scheggiato Potevo mandarlo indietro? Assolutamente sì L'ho fatto? Assolutamente no Quindi questo è il mio nuovo tavolo Quella scheggia rimarrà lì A quanto pare ho una maledizione Legata al tavolo Ma maledizione Si usano i tavoli Ci si mangia Ci si fanno robe È normale Che poi rimanga scheggiato Infatti l'ho preso di Non mi ricordo più nemmeno Come si chiama il materiale Infatti non si è mai ammaccato Perché è fatto apposta Per resistere anche ai rinoceronti Che non può essere intatto Ma ce lo facciamo andare bene Sembra scontata Sembra banale Ma non lo è La stanza diventa molto più luminosa Aggiungendo specchi e vetri Poi vabbè È fumé Quindi dà anche quel non so che di È fumé Non lo so Ora parliamo un attimino della parete E questo invece è il termineo da caffè Anche qua Però dai Sa arredare Nonostante lo spazio sia veramente infinitesimale E ci sta Cioè sa comunque Sa rendere calorosa Questa casa Ci sta Perfumé Questo è artigianale Ci ha messo qualche mesetto Per arrivarmi Perché per l'appunto Era un'azienda italiana Che ci ha messo un po' Anche qui Base Ottonata Baradorata Ottonata E sopra è questo bel fumé Un vetro che non so come si chiama Però un nome particolare Molto bello Qui la mia mitica scacchiera Che ho ordinato Con gli scacchi pesati Vellutati È molto carina Un po' Pachiano Questo angolino Obiettivamente sì Ci va bene lo stesso Ci va bene lo stesso Qui mi è sembrato 88 Zelda fan Era uguale Giunta nell'angolo Oltre alla pianta Pianta finta Non cagatemi il cazzo ragazzi Non so come dire Angelo Furone Ha donato 100 pippoli Dario top 10 film Di fantascienza Ciao ragazzi E ora top 10 Di film di fantascienza Io se provo a prendere delle piante Mi muoiono tutte Ho messo questa Mezza torre greca Che è un tavolino Su cui ho messo Questa base di cemento Che in realtà Ho preso a parte Da il tavolo Perché era nella base Del tavolo Ho detto vabbè L'ultimo Vabbè però vedo Questa è interessante Come cosa Utilizziamola Volevo prenderne una Di marmo nero Sì è un po' Casamonica Questa roba Però vabbè dai La parete Allora cosa è cambiato Dalla parete Mio padre Tipo Durante le vacanze di Natale Viene da me Mentre ero a casa Mi fa C'è un problema Che succede Belli gli armadi nuovi Però non c'entrano un cazzo Con la parete che ti ho fatto L'anno scorso Vengo a rifartela Ok Manco fosse casa mia No E vabbè comunque È venuto mio padre A rifare Sia questa parete Che quella di Ma scusa poverino Scusa ma poi gratis Con questo effetto Che è molto carino Perché è simil cemento Quando però arriva O comunque Ora C'è Suri Con questo cappellino Sembra Baccello degli specchio Veramente Una cosa assurda Ora voi non sapete Assolutamente Chi cazzo siano gli specchio Perché per fortuna Non siete nati In questi anni Ma Era un gruppo Comico Pisano E era composto Da acciuga Baccello E barba Ah l'ho già detto Ok basta Non ve lo faccio più vedere Però era interessante Oggettivamente cultura L'altro giorno Ho incontrato Due amici Di Milano Che portavano Un distintivo Con Alberto D'Aggiussano Siamo andati A una riunione Dove c'era Tanta gente Che applaudiva Un individuo Che gridava Prepotente C'è l'ho duro Lo s'ha detto C'è l'ho duro Ma sei sicuro C'è l'ho C'è l'ho C'è l'ho C'è l'ho C'è l'ho